ragazzi oggi vi mostrerò i camalevonti in comaxi edition questa è la bustina già aperta qua con l'antino umili, con foto e curiosità e un maxi camalevonte questa è quella bustina con il camalevonte che ha per le mosche le mosche sono degli agostini a me sembra più un'ape che una mosca comunque tutti cambiano colore al sole sono maxi edition questo qui è il foglietto il poster con il camalevonte di jackson che sarebbe quello che ho trovato nella vita reale ecco ci sono i punti che sarebbero nel suo caso dimensione 2 cambio colore 4 astuzia 4 e velocità 3 questo qui è il foglietto delle azione delle curiosità c'è il camalevonte di jackson il mondo dei camalevonte di jackson il mondo dei camalevonte di jackson il camalevonte di perinette come leonte pigmina del clina, come leonte di Socotra, come leonte grazioso, come leonte comune, come leonte dell'Oiene, come leonte del Namakwan, come leonte di Vadon, come leonte di Jackson, come leonte di Quattrorna, come leonte di Vanco, di Von Onnel, come leonte spinoso, come leonte del Namakwan, come leonte pigmina spettro, come leonte brunolano, ecco qui, poi ho il come leonte di Jackson che è questo qui, questo, che è il come leonte di Jackson, con una cosa lunghissima, si può allungare tantissimo, non vorrei sapere come faccio ad allungarlo, con la telecamera, giustamente non si vede niente, perché sto incontrando io stesso la telecamera, ecco qui il camaleonte, cambia colore al sole, ora è tardi e non c'è sole, però farò un altro video dove cambiano colore con il sole, aspetta, ora, andiamo a vedere se c'è il sole prima, no, il sole non c'è, quindi questo qui è il camaleonte, questo qui, questo qui è il mio robot, ecco qui il camaleonte di Jackson, su sistema, su sistema d'eau, ecco qui il camaleonte di Jackson, ci vediamo il prossimo video con il prossimo camaleonte, e scriviamo il prossimo video con il prossimo video,